Musica Ci servirà un uncinetto numero 3, delle forbici, una goda lana, del filato acrilico nero, del filato acrilico grigio, del filato acrilico arancione, del filato acrilico bianco, dopodiché ci servirà della colla a caldo, dopodiché ci servirà sempre del giallo ma un po' più chiaro. Iniziamo con il nero e facciamo 6 maglie basse nell'anello magico. Nel prossimo giro adesso faremo un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Nel prossimo giro ancora faremo una maglia bassa e un aumento fino alla fine per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo ancora faremo 2 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 24 maglie basse. Adesso nel prossimo giro faremo 3 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 30 maglie basse. Dopodiché nel prossimo giro 4 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 36 maglie basse. Nel prossimo giro 5 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 42 maglie basse. Nel prossimo giro 6 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 48 maglie basse. Nel prossimo giro ancora 7 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 54 maglie basse Dopodiché nel prossimo giro 8 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 60 maglie basse Bene, terminati i giri, adesso per i prossimi 10 giri lavoreremo le maglie come si presentano Bene, terminati i giri, a questo punto andremo a fare nel prossimo giro 8 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 54 maglie basse Nel prossimo giro 7 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 48 maglie basse e nel prossimo giro 6 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 42 maglie basse Terminati i giri, nel prossimo andremo a fare 5 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 36 maglie basse nel prossimo ancora 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 30 maglie basse dopodiché nel prossimo giro 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 24 maglie basse arrivati a questo punto imbottiamo la lavorazione bene imbottito il lavoro nel prossimo giro faremo 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 18 maglie basse Nel prossimo giro una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine per un totale di 12 maglie basse Dopodiché faremo 6 diminuzioni consecutive e con un ago chiuderemo il buchino che ci rimane Abbiamo finito il corpo, adesso andremo a fare i piedini Con la lana acrilica arancione faremo 6 maglie basse nell'anello magico Nel prossimo giro adesso andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse Nel prossimo giro andremo a fare una maglia bassa e un aumento fino alla fine per un totale di 18 maglie basse Nel prossimo giro ancora 2 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 24 maglie basse Adesso terminati i giri per i prossimi 5 giri lavoreremo le maglie come si presentano Terminati i giri nel prossimo andremo a fare 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 18 maglie basse Dopodiché nel prossimo giro lavoreremo un giro di maglie come si presentano Nel prossimo giro adesso andremo a fare una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine per un totale di 12 maglie basse A questo punto imbottiamo il lavoro Imbottito il lavoro adesso faremo 6 diminuzioni consecutive dopodiché chiuderemo il buchino che ci rimane con un ago Quindi abbiamo finito il primo piedino e allo stesso modo ne andremo a fare un altro uguale Adesso con il ferrato grigio facciamo 6 maglie basse nell'anello magico Dopodiché nel prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse Nel prossimo giro faremo una maglia bassa e un aumento fino alla fine per un totale di 18 maglie basse Adesso nel prossimo giro andremo a lavorare in corsa retro una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti Adesso nel prossimo giro faremo un giro di maglie come si presentano prendendo le maglie normalmente Dopodiché chiuderemo nella prossima maglia con una maglia bassissima Abbiamo finito questo pezzo e adesso andremo a fare gli occhi Per gli occhi con il filato bianco facciamo 5 catenelle Dopodiché saltiamo la prima e a partire dalla seconda andremo a fare una maglia bassa in ognuna delle catenelle fino alla fine Adesso nell'ultima catenella andremo a fare un'altra maglia bassa Rigiriamo il lavoro e facciamo una maglia bassa in ognuna delle costine fino alla fine Bene, quindi abbiamo fatto il primo giro, il secondo lo iniziamo con un aumento nella prima maglia Dopodiché adesso andremo a fare due maglie basse Nella prossima maglia andremo a fare un aumento normale, quindi due maglie basse nello stesso punto Nella prossima maglia un aumento doppio, quindi andremo a fare tre maglie basse, tutte e tre nello stesso punto Nella prossima maglia ancora un aumento normale, quindi due maglie basse nello stesso punto Adesso andremo a fare una maglia bassa Dopodiché nella prossima maglia un aumento normale E nella prossima maglia ancora un aumento doppio, quindi tre maglie basse, tutte e tre nello stesso punto Dopodiché chiuderemo con una maglia bassissima E abbiamo finito il nostro primo occhio Abbiamo finito il primo occhio e allo stesso modo ne andremo a fare un altro uguale Bene, a questo punto con un giallo chiaro andremo a fare sei maglie basse nell'anello magico Adesso nel prossimo giro andremo a fare due maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di otto maglie basse Adesso semplicemente andremo a fare per i prossimi sette giri una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti Bene, a questo punto andremo a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e abbiamo finito la nostra miccia Adesso con il filato grigio andremo a fare un grande anello magico al cui interno andremo a fare 18 maglie basse Dopodiché stringiamo il nostro anello E facciamo una maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo fatto Adesso andremo a fare 13 catenelle Andremo a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo fatto E a questo punto sempre lavorando in cerchio e girando in questo modo andremo a fare 18 maglie basse in questo anellino creato A questo punto andremo a chiudere con una maglia bassissima nella seconda maglia bassa Quindi facciamo una e due e in questa faremo una maglia bassissima Faremo un'altra maglia bassissima nella prossima maglia A questo punto facciamo una catenella Dopodiché rigiriamo il lavoro andremo a fare 4 maglie basse Di nuovo una catenella, rigiriamo il lavoro e lavoriamo 4 maglie basse A questo punto tagliamo il filo e abbiamo finito il nostro pezzo A questo punto abbiamo tutti i pezzi che ci servono e passeremo al montaggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti